Venite nella mia cameretta Dimmi ok Se vi è piaciuto questo video Gliatemi un like Facciamo l'unboxing Ma non me la cosa hai chiamato? No, per niente No Venite nella mia cameretta Oh, ti hai preparato tutto? Sì Vai Allora, tu hai tirato fuori tutti quanti i giocattoli I ex I ex Di quale giocattolo vuoi parlare? Buzz Buzz? Vai, tira fuori Buzz Allora Questo è Buzz Del film Toy Del Toy Serio Bravissimo Ed è uno dei tuoi cartoni preferiti oppure no? Diciamo un pochetto Però certo tu, amore di mamma, hai preso un giocattolo che... Tanto colta Però nonostante le mie raccomandazioni sul costo di questo giocattolo E quanto tempo mamma ci ha impiegato per trovartelo in italiano parlante Ciò non è servito ad evitare la sua rottura Che vuol dire? Yes Ah, ok Dicci un po', parlaci un po' di questo gioco Allora, da qui ti spuntano le ali Eh Guardate È che è l'unica cosa che funziona Ok E qui c'è il laser che è rotto Certo E qui c'è il comando Guardate Sì Però era un giocattolo molto bello Voglio passare a un altro pro che funziona? Sì Ma c'è Io mi chiamo Woody Parla Parla In italiano non siamo riusciti a trovarlo da nessunissima parte E Cappello Dorme Dorme Non si sa Non è mai stato E guardate qui sotto Lori Lori Ah no Lori è Woody Questo qua ce l'avevi scritto tu, vero? Sì Voce da mostro Mi sa che si sta rompendo pure questa Eh sì Mamma Ma dove è questa giugia? Sta lì Dove? Ciao Oh questo qui come si Peppa record Peppa record Il tuo punteggio è 35 Batti 5 Hai fatto ciletta Senti Lorenzo ma il tuo gioco preferito in assoluto qual è? In assoluto dici Non potrei mai vivere senza Cosa? Ah Ah Questa No lì ci sono le mutande Ah la cosa Sì Fagli un po' vedere quale c'hai Una Una Abbiamo tutte le piste È morto Allora questo qui è cosa? Abbiamo pure cambiato un po' l'inquadratura Abbiamo risistemato tutto Perché adesso Lorenzo vuole parlare dell'olaflix No com'è? Olaflix Non era ula? No Vabbè dai faccio vedere come funziona Lo metti su un piatto La tua mano è un piatto Alzi il piatto Mamma mia Poi Poi Dopo fatto questo Se lo metti qui Si apre da solo Eh mi sa che si leva la mano Ok fustacchio vai Freddo Vado 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 Non puoi vedere come è divertente Dai Non lo voglio Che fai? La pinta la manina Aia Dai ma si scalda Ma ti fai un po' fermo Perché è di ferro Guardate qui Come si chiama questo? Cocco dentista Cocco dentista Vado Vado Circa 20 euro Eh Aspetta aspetta I materiali I materiali sono un po' Crausetti Eh Però Ma guardate È direttente Se tocco Se tocco Il dente è sbagliato Guardate che cosa succede Guardate È questo? È questo? È l'ultimo Qual è il dente malato? Aia Vedi? Facciamo una partita giusta però Ok? Vai Prefilo tu No Abbiamo sgamato il sistema Perché? Aspetta Abbiamo sgamato il sistema Perché Alla Questi qui Che sono Più Più molli Ecco Questo qui è quello lì malato Perché È più duro Allora Questo qui è un revival Di anni Passati Ma Allora Devo dire la verità Però io ho aperto questo E Casualmente si sono rotti I suoni Però così Vari L'esca Chi apri? Non ci riesco Perché guardo la telecamera Ma tu non puoi fare così Barone Non si fa così Che come? Tu tieni la cosa così Ma non si fa così Perché così è facile Oh Fallo così Vedi che è più difficile Ma sta facilissimo Sì sì Vai vai Continua Hai dato lui così Eh sì Non la famo così L'abbiamo vinto Dai mamma Se lo prendete così È facilissimo Ma se Prendete così Guardate È un po' più difficile Giusto? Molto Hai qualche trucchetto Da dare? Qualche altro trucchetto Da dare? Eh No Diciamo Lorenzo Una cosa Che non siamo stati pagati Per fare questo video Dillo un po' Non siamo stati pagati Per fare questo video Se mi volete Guardare Lasciatemi online Un like Mettetevi un like Sei stato molto simpatico Casodino come funziona? Tutto ok? Ahia Ok quante sono otto? Allora adesso si gira Vai Ecco quindi quello lì è È viola Quindi è Metti un soldino Uno solo Adesso tocca a me Rosa Eh sì È rosa Quindi devo solamente mettere Un soldino Che cosa è uscito? È viola No No Non ci provare Era rosa Non è vero Stava sul bianco Stava sul bianco Ha registrato Stava sul rosa Che merca Sorrino Che non c'ho niente Abbiamo finito Abbiamo finito nevo neve Questo gioco Non ve lo posso far vedere Perché non c'è la panna Qui Qui sempre trovate La vostra La vostra Ruota E voi La girate Girate Così Aspettate E voi Mi chiedete Questi numerini A che cosa servono? Tutto E Servono Per quante Per quante volte Devi muovere La manuella Se qui c'è la panna Io ho tre Metti la faccia Metti la faccia Vai Anche se non c'è la panna Dai Uno Due E tre Se la mano Non mi viene contro Allora sono salvo Sei salvo Quindi passa A persona successiva Tocca all'altro Ritirila così Però purtroppo Non c'abbiamo la panna Annaggia Vai Io Se vai Vado Uno Due Tre Ah Mi avrebbe preso E mamma Ha perso Ecco E E E Tutto l'altro Tre Quattro E Tre E Due Dimmi Ok Allora ragazzi Adesso vi presento L'aleco Chirurgo Che Chi si è Mangiato Tutte cose Tipo queste Queste sono Le carte Di Che cosa Devi Fescare Io Adesso Le mischio Prima Io Ok Ok Vediamo Cos'è Secchio E Il secchio È Al piede Sì ma Non tu Lo divisiste Madre Ho detto 200 volte Prendiamo E Uno Sì Se Tocco il ferro Uno Due Tre E Quattro Passo All'altro Ah Ok E Se All'altro Uno Due Tre Perde E L'uno Dall'altro E Uno Bravissimo Hai vinto Eh Devo perdere Perché Tu Perde Perché Così Poi lo fai tu Ok Però Non lo diciamo Adesso Va bene Ok Allora Tocca a me Allora Uno Ecco Uno Due Tre Ecco Mannaggia Tocca a te Adesso Mamma Perzo E La Passa da me Quindi Adesso Tocca a te La pinza E Ho vinto Bravo Mamma Mi spiace Cavallo Cacchio Il cavallo Il cavallo è più difficile Sì Sì Bello Verdi Tiè Becca Primo Colpo Adesso Vi presento Gastone Testone Che tu Ne hai voluto tantissimo Questo gioco Per Natale Sì ma guardate Che cosa Si è mangiato Nella sua testa Da tutte quante queste cose schifose Ma cacca Poi l'ho trovato in spagnolo Il cervello E poi l'olino Vai Apilo Fai l'unboxing Dillo Re Facciamo adesso l'unboxing Dillo un po' Facciamo l'unboxing Bravo Faccelo vedere quanto è brutto Addirittura dentro c'è Un elicottero Allora praticamente Lorenzo Spiega questo gioco Dai Ecco ma ho trovato L'elicottero E' finito il video E' finito il video Ragazzi Vi saluto Ciao Parlaci di Gastone Allora Questo nasone Ha quattro entrate Tutte queste cose Sono Che vanno dentro La testa di Eccolo Di Questo che c'ho Gastone Poi ci sono le carte Che uno pesca Quello che deve 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 prendere Da dentro C'è anche una carcona Adesso mettiamole un po' Dentro Vai scegli una carta Così dobbiamo fare Aspetta La voglio andare Un attimo a fare Ma io lo so cosa stai facendo Ti stai andando a mettere La scheda che vuoi per prima Non le stai mischiando Bucciardo Ah che cosa ti è capitato L'occhio non ci sta più L'abbiamo perso Ti ricordi Il che? Il cordon fioc Il cordon fioc Quindi si infilano le mani O nelle orecchie Per questo qui ci può giocare Da due a quattro giocatori Io dal naso Io dall'orecchio Pronto? Sì Tre Uno Via Via Vieni Sì Vabbè Allora adesso Chi trova prima il mio? No Mi hai battuto Non ci è piaciuto tantissimo Sto gioco Un pochetto Tu ti stai a riscegliere La carta da mettere per primo Pronto? Anch'io dal naso Via Via E datela Così bari Oh mamma Non me lo fosse chiamato No Per niente No Allora ragazzi Se vi è piaciuto questo video Iscrivetevi Su Instagram E lasciatemi Un like Ok? Ciao ciao Vi voglio bene Se vi è piaciuto questo video Lasciatemi Un like Ma tu da queste cose Da dove le vedi? Da Le video di canno Dei video su Ciulare di nonno Di quelli di youtube Sì Quindi vuoi diventare Uno youtuber Sì Ciao a tutti Se vi è piaciuto Sì Hai mo capito Mettete un like Ciao a tutti Grazie a tutti.